Salve e bentornati a Incipit. Oggi parliamo di un grande classico, Moby Dick di Melville. Un libro che viene spacciato spesso come libro per ragazzi, ma in realtà è un libro straordinario, un'opera veramente incredibile. La battaglia che il capitano Aqab con la sua nave fa nell'oceano per dare la caccia alla balina bianca, appunto a Moby Dick, è veramente lo specchio dell'animo umano, sempre alla ricerca, sempre per spingersi oltre i propri limiti. Ma leggiamo l'Incipit. Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quando esattamente, avendo poco o nulla in tasca e niente in particolare che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di andarmene un po' per mare e vedere la parte ecorea del mondo. È un modo che ho io di scacciare la tristezza e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo sulla bocca una smorfia amara, ogni volta che nell'anima ho un novembre umido e stillante, quando mi sorprendo a sostare senza volerlo davanti ai magazzini di casse da morto o ad accodarmi a tutti i funerali che incontro, e soprattutto quando l'ipocondrio riesce a dominarmi tanto, che solo un robusto principio morale può impedirmi di uscire deciso per strada e mettermi metodicamente a gettare a terra e il cappello alla gente, allora mi rendo conto che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un gran gesto filosofico Catone si butta sulla spada, io zitto zitto mi imbarco. E non c'è niente di strano, se soltanto lo sapessero, prima o poi quasi tutti nutrono, ciascuno a modo suo, su per giù gli stessi miei sentimenti per l'oceano. Ecco dunque l'insolare città dei manattanesi, tutta cinta delle banchine come le isole indiane dai banchi di coralli. Il commercio l'avvolge con la sua risacca, a destra o a manca le strade portano verso l'acqua. La punta estrema della città è la batteri, quella nobile mole è bagnata da onde e rinfrescata da brezze che poche ore prima erano dove l'acqua è invisibile. Guardate lì le folle dei contemplatori dell'acqua. Camminate ai margini della città in un sognante pomeriggio domenicale. Andate da Corleas Hook a Coentis Leap e l'Upper White Hall verso nord. Che cosa vedete? Piazzati come sentinelle silenziose tutti intorno all'abitato, stanno migliaia e migliaia di mortali impietrati in sogni oceanici. Alcuni appoggiati ai pali, altri seduti sulle testate dei moli. Questi spingono lo sguardo oltre le murate di navi che vengono dalla Cina. Quegli aguzzano gli occhi verso l'alto, nelle attrezzature come cercassero di spaziare meglio sul mare. Ma sono tutti gente di terra, uomini rinserrati nei giorni feriali, tra cannici e intonachi, legati ai banchi, inchiodati agli scanni, ribaditi alle scrivanie. Che significa allora? I prati verdi sono scomparsi? Che fa qui questa gente? Insomma, cominciano delle leggere pennellate per descrivere la vita del mare e quello che porterà il capitano Aqab a solcare l'oceano per dare la caccia alla gigantesca malina bianca a Moby Dick. E in fondo ognuno di noi dà la caccia alla sua Moby Dick. Ve ne consiglio la lettura. A presto. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto.